buonasera benvenuti benvenute a questa lanterna verde nell'ambito di ecopsiche scuola di ecopsicologia dove è un piacere immenso poter accogliere la presentazione del libro di daniela ferbeghini che si è formata in ecopsicologia applicata ha fatto il suo progetto finale in ecotuning come chiamiamo la professionalità di chi si forma in ecopsicologia proprio sul green coaching senza immaginare che da quello sarebbe nato proprio un percorso formativo che ormai sono cinque anni che prosegue attivamente quindi qui tra gli altri ascoltatori abbiamo dei coach dei green coach informazione o già formati di cui daniela è una dei e una degli insegnanti del tutor abbiamo qui con anche cristina pelizzati anche lei è stata una dei fondatori di questo di questo percorso daniela io sono curiosissima non vedo l'ora di ascoltarti so che hai scritto un libro c'è un detto che dice che nella vita bisogna fare un figlio piantare un albero scrivere un libro non sono tanti sa che ho fatto già tutto speriamo che ci sia altro diciamo adesso anzi forse sulle prime cose no poi dopo c'è tanto altro cosa ti ha spinto a scrivere e che cosa ci vuoi raccontare di ciò che hai scritto a te la parola bella domanda bellissima anzi intanto ringrazio tutti per essere presenti le persone della scuola gli amici insomma tutti coloro che hanno voluto dedicare un po di tempo del loro del loro tempo a questo momento allora come dicevi tu marcella io ho seguito dal 2013 la scuola di ecopsicologia e per me quello è stato un momento molto significativo perché venivo da un cambiamento importante avevo appena lasciato il mio lavoro da dipendente insomma quello che avevo fatto per anni quindi all'interno del settore risorse umane avevo appena avuto una bambina quindi io l'ho diventata mamma e quindi tutto quello che avevo attorno mi stava stretto era un momento molto particolare e poi appunto l'incontro con l'ecopsicologia è stato una specie di folgorazione no quando ho letto il sito della scuola come ho avuto la sensazione di essere a casa e quindi mi sono detta ma ma come ho fatto a non scoprirlo prima questo questa disciplina questo questo sito tutte queste informazioni meravigliose che riguardavano l'ecopsicologia e che in qualche modo mi parlava parlavano parlavano al cuore alle emozioni a tutto quello che in quel momento stavo vivendo e quindi è stato molto semplice per me in quel momento entrare in questo percorso che mi ha portato appunto a diventare ecotuner e alla fine di quel di quel percorso essendo già coach da alcuni anni per me è stato anche molto naturale mettere insieme la mia professione con tutti i principi dell'ecopsicologia e quindi del lavorare con le persone per la loro crescita con l'aiuto con il setting e anche con lo scopo di includere la natura in tutto quello che che era il mio lavoro e la mia vita in generale quindi ecco è stata un po' una storia di un innamoramento se la paragono a qualcosa che viviamo durante la vita e motivo per cui ho sempre da quel momento proprio perché ha rappresentato un percorso un momento importante da quel momento ho sempre desiderato raccontare quello che avevo vissuto e quanto questo incontro fosse stato significativo significativo per me un po' perché sono una persona molto riservata ma questo non significa che mi piace che non mi piaccia raccontare di me faccio molta fatica a farlo e la scrittura invece è stata è stato uno strumento è stato un modo molto terapeutico per farlo perché questo libro comunque parla della mia storia quindi c'è molto di quello che ho vissuto fatti emozioni situazioni e quindi è stato molto utile per me proprio perché mi ha dato l'opportunità di mettere su su queste pagine degli avvenimenti importanti di quello che avevo vissuto e di quello che vivo quotidianamente e poi di raccontare e di forse fornire ecco un contributo a chi a chi ha voglia di di percorrere no questo viaggio della crescita personale con questa compagna di viaggio particolare fornire una sorta di guida ma più che altro un dire si può fare io ci sono riuscita e il viaggio che ho iniziato che sto tuttora percorrendo è qualcosa di meraviglioso per l'essere umano proprio perché è una continua scoperta e una continua una crescita spirituale anche la natura mi ha consentito di fare questo viaggio spirituale e il desiderio quindi di portarlo un po' agli altri è stato anche quello che mi ha mi ha spinto a scriverlo da alcuni anni appunto avevo quest'idea e poi diciamo che c'è stata un'occasione e infatti con noi c'è una persona che ha rappresentato un momento importante che è Mario Fumagalli che è direttore della collana di cui sono anch'io parte il cui direttivo faccio parte della casa editrice le edizioni che è la casa che ha pubblicato il libro e un giorno Mario mi ha telefonato durante il primo lockdown quindi in un momento sicuramente di difficile un po' per tutti no? Comunque c'era anche la possibilità di avere più tempo e mi ha fatto questa proposta mi ha detto guarda io sto lanciando questa collana per questa casa editrice e non so ho pensato a te questa collana parla di crescita personale ma a te piace scrivere? E questa domanda l'ho trovata meravigliosa e infatti ringrazio Mario di avermela posta perché in realtà ha fatto uscire dal cassetto o dal computer tutto quello che nella mia testa diciamo prendeva forma un po' da tempo quindi l'idea era chiaramente veniva dal passato ma quella è stata una grande opportunità e sono stata anche molto contenta e sono molto contenta di partecipare a questo progetto della casa editrice proprio perché penso che il mondo abbia un gran bisogno di crescita personale infatti questo lo dico anche proprio nell'introduzione al mio libro io lavoro nelle aziende prevalentemente quindi con manager con professionisti e quindi si parte sempre con loro da obiettivi di business obiettivi legati al lavoro alla professione ma non c'è percorso di coaching che non si sposti quasi immediatamente su temi personali e questo personali cioè quindi che riguardino la crescita della persona oltre che il raggiungimento di obiettivi di business e quindi legati alla professione perché di fatto se cresciamo dal punto di vista personale poi siamo anche molto più efficaci in termini professionali e quindi occuparmi di questo e portare un po' quella che è stata appunto la mia storia e dire a queste persone che a volte mi dicono ma io non ci riesco non riesco ad andare oltre il mio limite non ce la faccio non riuscirò mai a cambiare il mio modo di relazionarmi con gli altri perché sono fatto così ecco mi sento dire molto spesso queste frasi allora ho voluto veramente dare un contributo di speranza a coloro che leggeranno questo libro perché in realtà lo pensavo anch'io di me stessa e invece poi ho compiuto una grande trasformazione e nel corso del tempo sto continuando a farlo e non solo le neuroscienze ci dicono che noi come esseri umani siamo in grado di continuare a devolvere nel corso di tutta la vita ma io ci credo profondamente perché appunto l'ho vissuto sulla mia pelle e l'ho visto vivere a tante persone ormai facendo appunto il mio lavoro quindi ecco questo è stato un po' il come dire la spinta che mi ha dato la voglia di scrivere questo libro quella che si è posta è proprio una domanda cruciale credo che molti di persone in cammino e in ambito formativo in relazione di aiuto si chiedono come essere di aiuto come poter dare spunti che siano non solo il racconto di tante belle idee ma che possano andare a impattare concretamente immagino che grazie a tutti questi incontri che tu hai avuto hai trovato il tuo modo sì sì assolutamente io ho trovato un mio modo e devo dire che per quanto tutti gli esseri umani siano naturalmente attratti dalla natura negli ultimi anni questo elemento io lo vedo molto cresciuto c'è questa consapevolezza questa voglia di di avvicinarsi sempre di più alla natura forse perché la nostra vita nella pratica è andata un po' al contrario quindi le città la carenza di natura la vita frenetica che ci impedisce di o ci rende difficile lo stare a contatto con la natura quindi quello che anni fa era più semplice da fare oggi è sempre più lontano e quindi contemporaneamente è nato questo sentimento e questo desiderio di ritornare ad avere un contatto profondo con la natura lo sento sempre di più soprattutto appunto nei percorsi di coaching che faccio quando racconto il mio approccio e i miei coach mi dicono accidenti che bello che bella cosa e sempre hanno sempre anche loro una passione legata alla natura chi va in montagna chi va chi fa sport acquatici chi cammina quindi c'è sempre un richiamo a qualcosa di personale e che rende probabilmente anche questo approccio particolarmente attrattivo perché c'è un fascino che comunque da sempre ci lega all'ambiente naturale poi ci sono anche degli studi che nel mio libro cito nella sezione finale che ci spiegano come noi ci sentiamo effettivamente attratti dalla natura e ci sentiamo figli della natura ed è grazie a questi elementi che possiamo iniziare a dialogare con la natura stessa e questo mi ha mi ha veramente coinvolta tantissimo questi gli studi che hanno diciamo illustrato questo questa particolarità perché quello che io ho vissuto come dire in modo estremamente intuitivo e quello che tutti viviamo in modo molto naturale intuitivo il rapporto con la natura è in realtà poi ha dei fondamenti biologici scientifici insomma molto interessanti da approfondire prima cittavi Barbiero lui ha scritto tanti articoli libri e tematiche di questo tipo sono insomma il suo focus e ho trovato estremamente illuminante leggere questi questi temi i suoi libri le sue i suoi articoli perché in qualche modo dice racconta in modo strutturato scientifico e accademico quello che tutti noi viviamo quindi mi ha sempre molto ecco dato un ha sempre dato un senso ecco a quello che ho sempre vissuto più intuitivamente ti è proprio incuriositi adesso Daniela cosa ci puoi raccontare del tuo approccio di questo qualcosa che gli altri sentono essere già diverso da quello che gli arriva da altri professionisti sì sì allora io quello che posso dire di questo approccio che poi è quello che insegniamo all'interno della scuola di green coaching al percorso di green coaching nella scuola di psicologia è questo noi abbiamo creato una mappa che si chiama mappa green che in qualche modo si sovrappone o arricchisce quella che è la mappa grow che è la mappa che tutti i percorsi di coaching hanno come punto di riferimento quindi John Whitmore fondatore uno dei padri fondatori del coaching descrive questa mappa grow che è proprio il percorso che viene compiuto all'interno di un di una di un percorso di coaching quindi si parte dalla definizione di un obiettivo si esplora la realtà si valutano le opzioni e poi si ci si ingaggia verso un piano d'azione quindi si mette in atto la propria volontà di agire ecco questo è il modello classico del coaching il modello green che appunto integra questo modello generale del coaching e che poi è fondante del mio approccio dell'approccio del percorso green coaching cosa fa mette o aggiunge se vogliamo degli elementi a questo a questo modello a questa mappa e quali sono di fatto allarga lo scopo del percorso ad una visione molto più ampia del proprio obiettivo vi spiego meglio all'interno dello scopo della persona che ha la visione che ognuno di noi ha di se stesso quindi in un percorso di green coaching ci chiediamo sempre qual è il senso dell'obiettivo specifico di quali sono le leve motivazionali che ci portano a viaggiare verso quell'obiettivo e poi collochiamo questo obiettivo all'interno del sistema e ci chiediamo sempre qual è il contributo che io posso dare all'ambiente al contesto in cui sono alla società alla natura quale contributo posso dare quando avrò raggiunto il mio obiettivo qual sarà il mio il senso del raggiungimento di questo obiettivo per tutto il sistema in cui io sono immerso quindi in qualche modo allarga l'obiettivo lo rende socialmente importante e ecosostenibile cioè ci chiediamo sempre come faccio a raggiungerlo in modo tale da massimizzare il mio benessere e quello dell'ambiente in cui sono in cui vivo quello del contesto in cui vivo quindi c'è proprio un lavoro sulla sull'equilibrio del sistema e sul contributo che che le persone possono portare al sistema stesso proprio perché a volte noi possiamo avere in mente un obiettivo possiamo fare di tutto per raggiungerlo costruire un piano d'azione seguirlo e poi alla fine ci rendiamo conto che abbiamo raggiunto quell'obiettivo ma non siamo in equilibrio ecco un percorso di green coaching invece parte dall'equilibrio cioè quel piano di azione è un piano d'azione ecosostenibile per se stessi per il contesto e per tutto quello che che è il sistema diciamo Daniela quindi un obiettivo dicevo quindi un obiettivo compatibile con se stessi ma anche compatibile con l'ambiente col sistema che ci ospita che noi dotiamo esatto cioè che contribuisce alla mio benessere e contemporaneamente al benessere del sistema bello quindi sì bellissimo grazie larga proprio la visione accompagnando a riconoscere che nessuno di noi è staccato da tutto il resto ma comunque tutto ciò che siamo proviene da tutto ciò che c'era prima e tutto ciò che facciamo andrà a impattare in quello che succederà dopo quindi questa è proprio la visione ecologica è il contributo dell'ecologia ecco assolutamente volevo chiederti questo Daniela non so se chiederlo a te ecco lo chiedo a te ma è un approccio green che deriva da qualche altro approccio per esempio la psicologia a un approccio sistemico è un approccio similare giusto? sì sì come come raccontavo prima questo approccio deriva dall'applicazione dell'ecopsicologia che a sua volta unisce la psicologia con l'ecologia profonda è applicato proprio al coaching quindi di fatto è il green coaching è il coaching ispirato dall'ecopsicologia se vogliamo dirlo con un'altra espressione Marcella se ti va volevo chiedere a Mario che prima ho citato di dire due parole sulla collana di cui parlavamo sulla casa editrice e insomma qualche qualche contributo anche suo perché appunto insieme abbiamo proprio ideato no? questa questa collana e abbiamo la volontà di continuare a farlo di di svilupparla di farla crescere Mario hai voglia di dire due parole? sì volentieri grazie buonasera a tutti bentrovati mi attacco una cosa che hai detto tu Daniela c'è stato un momento negli anni scorsi di pandemia dove io faccio formatore e coach in azienda e anche fuori dall'azienda in ambito sportivo e avevo un libro nel cassetto che avevo scritto tempo fa e avevo voglia di far pubblicare per cui in un mese in cui ero a casa mi sono messo a cercare una casa editrice ho trovato questa casa editrice tra l'altro gestita da un mio ex compagno di liceo e gli ho detto guarda ho guardato un po' tra i tuoi titoli mi sembra che manchi un po' il tema della crescita personale magari non è il tuo core business però potrebbe essere una cosa che ti interessa e lui si è acceso e mi ha detto guarda sì io sono appassionato di questi temi non ho mai tempo per scrivere ma se mi dai una mano mi piacerebbe far partire questa collana e lì mi è carata addosso questa cosa perché mi ha detto fai tu cerca tu le persone cerca qualcuno che scriva carta bianca fate quello che ritenete migliore e poi vi portate i progetti e quindi di fronte a questa cosa io mi sono trovato innanzitutto avevo risolto il mio problema di chi mi avrebbe pubblicato il libro ma poi ho detto caspita adesso però non può essere una cosa sola ma avendo trovato questa disponibilità ho detto io voglio cercare qualcuno che mi accompagni con quale fare questo percorso e fare come diceva Daniela far crescere questa collana e ovviamente ho pensato alle persone che avevo incontrato in questi anni di lavoro in azienda e Daniela è stato il primo volto che mi è venuto in mente perché è un film ci conosciamo da tanti anni abbiamo lavorato insieme il tempo fa quindi un filo che si è un po' allentato poi ci siamo ritrovati e mi è venuto naturale chiedere a lei perché per me questa collana deve essere non una serie di bei libri ma deve essere un contributo di persone e di persone che hanno a cuore le persone scusate il gioco di parole io in questi anni di lavoro comunque avevo conosciuto Daniela mi aveva capito proprio questa cosa di lei che si lavorava in ambito risorse umane formazione ma lei aveva a cuore le persone che non è banale perché anche nel mio lavoro non è sempre scontato avere a cuore le persone a volte le persone si trattano un po' come sono all'interno di un file Excel se qualcuno di voi lavora in azienda probabilmente sa di che cosa parlo e allora ho detto no io voglio che in questa collana ci siano persone che hanno questa questa vocazione questa passione per il genere umano e Daniela è stato appunto il primo volto che mi è venuto in mente per cui è stato naturale chiederle e soprattutto chiedere perché sapevo di questa sua di questo suo approccio al mondo del coaching al mondo della formazione molto molto particolare molto interessante e quindi ho detto allora Daniela secondo me dobbiamo metterci insieme e fare qualcosa perché io a me piace l'ambito sportivo per cui mi sfrucuglio in quel mondo tu potresti essere il portavoce di un mondo che non so quanti conoscono realmente a livello professionale e quindi così è nato è nato secondo me un una collana sta nascendo una collana che io spero veramente possa possa continuare con quest'ottica però che partecipino persone che hanno a cuore altre persone ecco ho risposto Daniela ho detto una cosa utile beh sì ti ringrazio di quello che hai detto perché per me è molto importante il fatto che si veda cioè che io ho a cuore le persone lo ritengo veramente un feedback meraviglioso ecco perché come dici tu non è scontato e far trasparire questa cosa agli altri per me è fondamentale proprio ieri ero con dei colleghi in un'aula di formazione e alla fine della giornata stanchi insomma da tutto quello che che avevamo passato e vissuto con le persone di quell'aula abbiamo detto noi siamo qui per voi non ci interessa altro cioè è il nostro lavoro è la nostra vocazione questa qui e nel libro io parlo anche di questo cioè di quanto per me sia stato fondamentale dare voce a questa mia passione a questa volontà di aiutare le persone a crescere seguendo delle abilità naturali che avevo facendole crescere naturalmente e cerca non fermandomi mai nel nel voler continuare a crescere insieme alle persone perché poi ecco questo lavoro Mario penso che tu lo sappia bene e tutti coloro che lo fanno e che sanno sanno che è un continuare a crescere insieme alle persone che fai crescere anche qui è una ripetizione ma in realtà è proprio questo perché qualsiasi persona qualsiasi percorso è diverso e io imparo tutti i giorni qualcosa dalle persone con cui lavoro ed è bello essere sul loro stesso piano ecco questo è quello che amo di questo lavoro e questo facendolo con questo approccio legato alla natura è ancora più facile tra virgolette riuscire a rimanere sullo stesso piano perché è come se mettessimo a confronto e a fattore comune le nostre esperienze con la natura e questo è estremamente avvicina moltissimo cioè quello che che nasce no? da un da un dialogo sulle proprie risorse su le proprie difficoltà oppure sulle proprie sfide passando attraverso elementi della natura la metafora della natura ma anche essendo fisicamente nella natura rende il rapporto di coaching ancora più profondo ed intenso e naturalmente naturalmente ricco ecco di di stimoli di di connessioni di connessioni che che viaggiano su una dimensione molto sottile no? quindi impalpabile di vibrazioni di energia no? che si sente tra la persona me l'ambiente il coaching le metafore che usiamo gli elementi naturali insomma è estremamente nutriente per tutti è una copia del libro ce lo fai vedere che cosa che cosa trova nel tuo libro chi sceglie di prenderlo come è organizzato come è costruito sì allora il libro è organizzato in questo modo c'è una parte iniziale che racconta un fatto che io ho vissuto e che mi ha portato a iniziare il percorso di trasformazione non ve lo racconto perché vi lascio la come dire l'opportunità di leggerlo però è un fatto che ho vissuto e che ha la natura come protagonista e quindi questo e questo è il fatto il fatto della vita se vogliamo ogni volta che io penso alla mia crescita alla mia vita quello che ho passato alle cose belle alle cose meno belle comunque c'è sempre questo ricordo di quel momento questo è appunto l'inizio poi il libro racconta come dire cosa è successo da quel momento in poi a macro temi che cosa ho fatto che tipo di trasformazione ho vissuto e dà poi nella nella parte diciamo centrale una sorta di road map di quello che può essere un percorso di crescita legato alla natura quindi parte dalla mia esperienza e racconta dando in modo molto semplice ecco un elemento che voglio trasmettere è un libro non è un libro per gli addetti ai lavori è un libro per le persone quindi accessibile a chiunque quindi in modo molto semplice racconta quali possono essere le tappe che portano ad una crescita personale ad un'evoluzione partendo facendo continuamente delle come dire dei flashback dei racconti a quella che è stata la mia esperienza le cose che ho vissuto e che hanno avuto sempre la natura come come compagna di viaggio questo nella parte centrale la parte l'ultima parte del libro è invece un come dire ha una serie di riferimenti alle scienze che supportano tutta questa questo percorso e quindi l'ecopsicologia la la psicosintesi tanti autori che ho incontrato nello studio dell'ecopsicologia e successivamente nel coaching e via dicendo quindi c'è tutto un affondo più scientifico sempre trattato in modo molto non accademico ovviamente perché non è non era quello l'intento però questa parte vuole un po' dare un fondamento più appunto strutturato e più scientifico a quello che può essere un percorso di crescita basato sulla natura e con la natura come compagna di viaggio si conclude quindi con una serie di suggerimenti su come iniziare a compiere questo viaggio e e quindi ad allargare lo sguardo al proprio senso all'interno del mondo allargare lo sguardo di iniziare a guardarsi come come elemento di un tutto e in questo modo tutto quello che poi ne consegue è che inevitabilmente noi ci avviciniamo alla natura perché il tutto è la natura e tutto quello che l'uomo ha fatto e che in questo momento ha costruito in centinaia di anni di evoluzione negli ultimi centinaia di anni di evoluzione è il dono della natura è il dono dell'intelletto che la natura ci ha fatto e ahimè noi lo stiamo usando in modo quasi contro la natura quindi c'è anche una riflessione sul fatto che se la natura ci ha dato ehm la facoltà di evolvere di innovare eh di inventare tantissimi eh strumenti e processi che ci hanno portato a a fare tutto quello che oggi facciamo alla tecnologia andiamo nello spazio risolviamo situazioni complicatissime se ci pensate ecco se ci ha dato questa facoltà noi non possiamo permetterci di usare questa nostra facoltà cioè l'intelletto contro la natura stessa perché è come tradire la propria madre è come eh pugnalare la propria madre e questo ecco è un come dire è un contributo che mi sento di dare perché giorno dopo giorno mi rendo conto sempre di più che ci stiamo autodistruggendo e e quindi il mio eh suggerimento finale il mio contributo finale è proprio quello di dire fermiamoci un attimo non vuol dire rinunciare alla tecnologia non vuol dire rinunciare a quello che abbiamo raggiunto vuol dire semplicemente ripensarlo semplicemente probabilmente no però ripensarlo ripensarlo in modo tale che sia sostenibile e che rispetti eh la natura che che ci ha donato questa capacità meravigliosa di di essere esseri umani pensanti e non è un libro rivolto solo a coach è un libro rivolto a tutti no direi che non è rivolto ai coach anche se poi anche i coach lo possono leggere e possono trarne eh beneficio anche perché eh i coach per primi eh compiono un grande una grande evoluzione durante il loro percorso per per diventare coach eh in tutti i percorsi eh che appunto consentono di diventare coach c'è un percorso di crescita personale perché eh lo ripetiamo spesso non si può come dire accompagnare qualcuno in un luogo se non ci siamo mai stati e quindi eh il fatto di lavorare su su di sé eh è il primo passo no del della strada di un coach quindi eh sarei molto onorata se eh i colleghi coach lo leggessero perché perché comunque ehm c'è tanto di condiviso con tante altre persone ehm c'è tanto di comune alla alla strada che che tutti i professionisti di questo settore compiono e quindi ecco mi sento molto vicina a tutti coloro che hanno eh percorso questa strada anche con approcci differenti quindi è semplicemente fargli vedere far vedere anche ai coach uno sguardo diverso su una stessa eh metodologia certo eh qual è la casa cioè abbiamo sentito Mario ma mi sono persa il nome della casa editrice Mario vuol dire tu la casa editrice è le edizioni che è una una piccola casa editrice che lavora tanto nell'ambiente accademico universitario pubblicazione di dispense a tutti i livelli sede di Milano e nei libri si trovano in realtà anche su Amazon o direttamente sul sito o anche su Amazon ah bellissimi guida crescita personale ecocentrica questo era il tuo libro bellissimo spero che si veda la casa editrice il titolo è la natura ti parla e il sottotitolo è guida la crescita personale ecocentrica e quindi si può trovare sul sito della casa editrice o direttamente su Amazon su Amazon si può ordinare nelle librerie le procurano quindi diciamo ci sono varie possibilità ehm c'è la versione ebook Kindle insomma tutti i vari strumenti di lettura digitale ehm ecco io farò un po' insieme anche a Mario faremo delle presentazioni come queste anche di persona se riusciremo in alcuni contesti ehm per cui mi piacerebbe che se aveste l'occasione ci potessimo vedere anche di persona quando quando sarà certo quindi il tuo libro andrà in bibliografia tra i libri di ecopsichè e se non sbaglio tu sei anche socio yes sì e quindi stiamo creando anche uno spazio in cui promuovere tutti i libri che i soci della internazionale vorrò tradurre in inglese per il momento metto anche quelli ce li mettiamo in tutti nelle lingue originali però sì perché no stiamo creando adesso un corso di formazione internazionale per cui ci sta anche il libro in inglese pensateci come sviluppo della casa editrice perché no qualcuno del pubblico ha delle domande da fare a Daniela perché qui abbiamo un pubblico che condivide con Daniela tutte le conoscenze dell'ecopsicologia ma magari più curioso sul fronte coaching e abbiamo un pubblico che viene invece immagino dai tuoi colleghi amici coach che magari avranno altre domande come ho detto prima Massimiliano più sul fronte dell'ecopsicologia quindi siamo abbastanza in pochi potete aprire il microfono e chiedere la parola o scrivere sulla chat come in un altro tempo inizia a chiederti Daniela se stai già pensando a un altro libro se ti ha fatto venire il gusto dello scrivere in realtà in realtà sì con una collega in particolare che è presente Caterina Tavani ogni tanto ci diciamo noi dobbiamo scrivere dobbiamo perché lo sentiamo proprio dobbiamo e vogliamo scrivere un libro insieme perché lavoriamo insieme da tanto tempo perché ci vogliamo bene perché vogliamo portare un po' il nostro contributo agli altri facendo questo lavoro da anni e quindi non imminente ma perché no insomma ci ho preso gusto a farlo e devo dire che insomma il tempo di questi due anni un anno e mezzo più o meno è stato in qualche modo veramente ben speso per quanto mi riguarda non avrei avuto la possibilità di farlo se non fossi stata in casa per mesi in qualche modo voglio guardare a quello che ahimè la pandemia ci ha portato purtroppo con uno sguardo invece più orientato su quello che di positivo mi ha portato mi ha portato più tempo mi ha portato tempo per riflettere per fermarmi per mettermi a fare cose che prima non riuscivo a fare quindi adesso proprio in pratica le tue competenze di green coach del vedere sapere proprio flessibilità perciuttiva vedere le cose da un diverso punto di vista e trarne sì tra l'altro ecco approfitto della presenza di Cristina Pellizzatti che vedo tra i ciao Daniella complimentissimi ciao Cristina allora no volevo ringraziare Cristina e salutarla perché Cristina è stata la mia compagna di viaggio nella creazione del percorso green coaching quindi insieme anche a Marcella io ricordo ancora come se fosse ieri quella famosa quel famoso incontro attorno al camino alla fine alla fine del mio percorso di ecotuning durante il quale appunto ci siamo dette io ho portato questa come dire questo progetto di green coaching e ci siamo dette ma perché non creiamo qualcosa di come dire di strutturato sul green coaching perché secondo noi può fare solo del bene metterlo a disposizione degli altri e quindi ecco mi fa piacere che tu ci sia Cristina perché quel momento è stato uno dei tanti momenti significativi di questo percorso esplosivo direi esplosivo insieme abbiamo lavorato a lungo nel produrre appunto i contenuti nel pensare a che cosa organizzare a che cosa fare ai modelli alle mappe insomma tutto quello che poi insieme a Marcella abbiamo abbiamo creato e Marcella ha avuto la grande come dire intuizione disponibilità desiderio voglia di accogliere questa idea all'interno della sua scuola quindi ecco ovviamente il ringraziamento va ad entrambe perché siete state entrambe significative e avete dato voce a un mio sogno quindi insomma direi che è stata una co-creazione nel vero senso della parola sì sì esatto è stata una co-creazione e qualcosa di esplosivo perché insomma c'è stato tanto lavoro e molto appassionato quindi direi che è stato un grande momento quello bravissima Daniela complimenti Daniela complimenti a Daniela complimenti a tutti voi perché con questo libro e con questo tipo di metodologia mettete in evidenza un'esigenza che ci dovrebbe essere sempre che però forse oggi come oggi c'è ancora di più quello di ritornare un po' anche ai basilari quindi alla natura e al suo equilibrio veramente complimenti grazie grazie Massimiliano Massimiliano è un coach ICF quindi un compagno di viaggio anche lui della Sardegna pensa Massimiliano che c'è una sede di della scuola di ecopsicologia in Sardegna quindi ah davvero pensa un po' sì e dove sta? Marcella vuoi raccontare tu qualcosa? Auristano Auristano a metà strada io sono a Cagliari non è lontano c'è un nutrito gruppo che si sta formando in Green Coaching che già si è già formato e c'è adesso un secondo ciclo che si sta formando consigliamo Gili che è una pedagogista che coordina il centro è molto interessante questo argomento adesso non voglio togliere spazio però chiaramente questo Daniela l'aveva già capito che è un argomento che mi può interessare tanto io adesso mi sto certificando con ICF però terrò un occhio anche su questo argomento perché mi mi interessa tanto grazie grazie a te c'è una bellissima sincronicità tra il fatto che il webinar che ho seguito prima col professor Barbiero con Europe Direct è un progetto della comunità europea sulla sostenibilità il tema era architettura biofilica e si parlava proprio del fatto che ci si aspetta entro vent'anni che il 70% della popolazione mondiale vivrà in città e quindi che queste città vanno ripensate perché questo bisogno di natura è innato in noi e il fatto di trascurarlo genera un malessere sul piano individuale e sul piano sociale quindi il tema attualmente il tema è attualissimo e ha delle incredibili applicazioni per il futuro proprio per riuscire a riconoscere che anche nella città c'è tanta natura e portare il più possibile natura in città e portare il più possibile natura dentro di noi che vuol dire riprendere contatto con la parte più selvatica più vitale più autentica con emozioni con la parte creativa quindi non dobbiamo pensare che andare in natura vuol dire andare necessariamente nello Yosemite o nel Parco Nazionale del Gran Paradiso c'è molto molto che può essere fatto proprio nel ripensare il nostro stesso modo di essere non solo nel nostro aspetto logico-razionale natura coltivata non solo logos ma anche eros natura selvatica creatività convivialità bisogno di relazione di relazioni umane quello proprio che caratterizza anche la nostra peculiare natura umana quindi il libro di Daniela non è solo una così una variante c'ha famolo strano facciamo coaching in natura invece che invece che in studio è proprio una un'intuizione su qualche cosa che ci tocca profondamente come esseri umani e il coaching io credo che abbia delle potenzialità incredibili nel lavoro con le persone proprio perché va a lavorare direttamente con quella scintilla di creatività che c'è in ognuno di noi che è quello che come hai detto tu Daniela caratterizza non abbiamo avuto solo l'intelletto abbiamo avuto questa nel processo evolutivo della vita questa libertà dall'istinto che si traduce in possibilità di creare cose che prima non c'erano e questa libertà se noi non la riconosciamo e non la accogliamo e governiamo consapevolmente ci prende la mano e finiamo con creare cose che finiamo con creare mostri che prima non c'erano perché abbiamo dato solo spazio ai mostri dentro di noi se invece diamo spazio anche alle luci dentro di noi ecco che possiamo creare realtà completamente diverse quindi il rischio in questa libertà che il processo evolutivo ci ha dato è che se non ce ne facciamo carico la sprechiamo come anche tu stavi dicendo proprio e il coaching ha questa magia di andare a lavorare di fatto direttamente su questa essenza della nostra scintilla creativa bypassando lo dico da psicologa tutta la fuffa terapeutica o pseudo terapeutica che appesantisce molto il lavoro perché il coaching va a lavorare sulla parte più sana delle persone per renderla ancora più vitale versatile attiva e creativa quindi va dritto all'obiettivo è per questo che da psicologa e counselor mi sono poi appassionata anch'io al coaching e ho aderito il progetto con grande gioia sì penso che il coaching dia un contributo su un piano profondamente diverso rispetto ovviamente alla psicologia non mi piace non mi piacciono tutti i dibattiti che vedono psicologia e coaching come dei degli antagonisti li trovo sterili non mi piace la situazione che anche a livello istituzionale si è venuta a creare con la chiusura del tavolo di definizione delle linee guida per la qualità nel coaching e insomma trovo che tutto questo tema sia molto lontano dalla vera essenza sia della psicologia che del coaching cioè quello di lavorare con le persone aiutarle appassionarsi di persone e creare un'umanità più felice che sta meglio nel proprio ambiente un'umanità che raggiunge grandi traguardi che evolve continuamente ecco quindi il coaching penso che sia lo strumento così come lo sono altre altre discipline che aiutano le persone a diventare a diventare migliori per il desiderio di diventare migliore quindi e di stare meglio ecco diventare loro stesse al meglio diventare loro stesse al meglio esatto e in questo anche nel libro parlo proprio di questo cioè non amo il concetto di successo legato al raggiungimento di obiettivi straordinari per me il successo è riuscire a fare quello che desideriamo che sogniamo e che porta un contributo agli altri quindi in modo molto molto come dire semplice ed umile un concetto di successo proprio legato alla crescita della persona perché penso che sia qualcosa di eroico riuscire a trasformarsi quindi io ammiro tantissimo le persone di grande talento che hanno raggiunto risultati eccezionali ho proprio un'ammirazione per queste persone poi però mi chiedo e nel libro ne parlo mi chiedo ma è davvero così cioè il successo è quello cioè essere eccezionali e io penso che ognuno di noi sia eccezionale quando riesce proprio a diventare la miglior versione di se stesso è quello che credo fermamente e che ripeto alle persone con cui lavoro spesso che invece magari pensano di dover che ne so guadagnare di più avere una casa più bella avere un lavoro migliore diventare amministratore delegato di un'azienda sì quelle sono obiettivi importanti no se ci fanno stare bene sono obiettivi importanti però non è solo quello il successo anzi io credo che il successo sia veramente qualcosa di molto più intimo e di molto più legato a quello che siamo e se riusciamo ad essere davvero quello che vogliamo per me è un grande un grande raggiungimento del successo grazie grazie a voi allora ringrazio Caterina e Fabio che hanno scritto che hanno iniziato a leggere il libro e si sono appassionati quindi grazie a voi che l'assoluta verità assoluta assoluta verità ti ringrazio Fabio allora io sto distribuendo delle copie quindi se ci incontreremo magari riusciremo anche a scambiarcelo fisicamente questo libro se abbiamo un programma di vederci con ciascuno di voi ve lo posso consegnare con le mie mani altrimenti come diceva Marcella ci sono i canali come dire classici poi quando riusciremo Mario a far sì che che sia i nostri libri siano nelle nelle librerie direttamente senza doverle ordinare credo che quello sarà il grande passo finale dobbiamo darci da fare dobbiamo darci da fare tra l'altro ecco voglio citare il libro di Mario della stessa collana che è un messaggio per te che è un bellissimo racconto e che vi consiglio di leggere perché parla di di crescita anche in questo caso in un modo molto particolare quindi ve lo consiglio un messaggio per te stessa casa editrice le edizioni che cosa avete in programma nella collana Mario allora scusate ho tolto la webcam perché ho la connessione che è trabiccola per cui non riuscivo adesso provo a riattivarla comunque il senso della collana è quello che dicevo prima cioè non sono non vogliamo partire dagli argomenti ma dalle persone e dai professionisti che fanno questo lavoro per cui ho contattato stiamo contattando persone che lavorano nell'ambito di risorse umane della formazione del coaching cercando diversi approcci ma soprattutto partendo da quella passione che Daniela ha ben descritto da quella vocazione ha usato questa parola che a me piace molto guardando prima questo e poi cercando di diversificare appunto gli approcci dovrebbe essere uno su una formazione outdoor è già lì una bella sfida portare la formazione outdoor in un libro piacerebbe che ci fosse un volume sullo sport quindi diversificare il più possibile ma partendo sempre da questa vocazione da questa passione che è per le persone ce ne sono tantissimi di libri di questo genere mi piacerebbe che i nostri si distinguessero proprio perché dietro a un libro ci sono delle persone come come ho trovato questa sera ecco quindi vorrei che fosse fosse questa l'impronta di questa colana sarebbe bello un libro sui giovani ma il libro di Mario è sui giovani infatti ti consiglio di leggerlo perché tu che sei appassionato della crescita ho fatto scopo allora guarda bingo poi il terone sì 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 bene Marcella abbiamo spero ecco che di essere stata esaustiva di avervi trasmesso un po' la voglia di leggerlo e poi aspetto i vostri feedback perché insomma per me è importante non essendo una scrittrice perché io non nasco come scrittrice ho sempre amato scrivere ma non sono è la prima volta che lo faccio voglio raccogliere i feedback sinceri degli amici dei non amici di tutti coloro che avranno voglia di darmi poi si diventa scrittore si diventa forse forse è vero ecco potrebbe essere così certamente la la registrazione adesso lasciatemi il tempo di rilaborarla un attimo veramente online ti mando il link così puoi anche inviarlo a chi vorrà perché in tanti mi hanno detto che non potevano esserci ma erano interessati poi ok volentieri volentieri bene io ringrazio tutti e vi ringrazio di essere davvero stati qui con noi e spero di incontrarvi presto tutti grazie a te buon Natale a tutti buon Natale a tutti grazie a Mario grazie ciao buon Natale grazie grazie ciao 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 Cristina ciao ciao Valeria ciao ciao Isa Luisa ciao Fabio Caterina Sara domenica sei libera vieni a fare un giro alla cura guarda sto facendo il trasloco no però ci portavi qualche coppia eh ragione ragione ma non è il momento perché sono in mezzo agli scatoloni però volentieri a gennaio magari o comunque ai prossimi incontri organizziamo volentieri grazie grazie a tutti un bacio a tutti ciao ciao Marcella grazie buona serata a tutti